eccoci qua buongiorno oggi nella quinta riflessione ad alta voce parleremo del giudizio molti di voi mi hanno chiesto di fare una video riflessione sul giudizio la prima cosa che va detta sul giudizio è che è un blocco della nostra evoluzione perché crea conflitto siamo stati abituati a essere giudicati fin da piccoli siamo stati giudicati se siamo bravi se siamo cattivi se quello che facciamo è giusto o è sbagliato all'inizio io pensavo che il giudizio buono e cattivo o giusto sbagliato dovesse essere trasformato in utile o inutile poi ho fatto delle approfondite riflessioni e ho capito tante cose e più che altro sono riuscito a dargli un senso logico e oggi in questa riflessione voglio fare questa questa considerazione con voi intanto dove nasce il giudizio giudizio nasce sulla base delle esperienze nasce sulla base delle credenze nasce sulla base dell'educazione della nostra morale della società ed esistono due tipi di giudizi il giudizio interno quello che diamo noi a quello che facciamo quello che pensiamo quello che sentiamo e giudizio invece che ci danno gli altri le persone che sono vicino a noi o la società stessa ma il giudizio diventa limitante limita i nostri pensieri nostra emozione nostra azione di conseguenza i risultati che otteniamo quando siamo noi che crediamo nell'esito di questo giudizio perché finché le altre persone continueranno a giudicarci fino a quando non non ne saremmo convinti anche noi che quel tipo di giudizio è assoluto non non avremo dei blocchi dei conflitti per andare avanti in questa riflessione dobbiamo mettere insieme le tre parole chiave dell'evoluzione che sono la percezione che sono la irreversibilità e che è la separazione tendenzialmente la percezione la percezione della realtà costituita da tantissimi filtri e il giudizio è proprio uno dei filtri che non ci fa vedere le situazioni per quello che sono ma vengono filtrate ovviamente sulla base di quello che pensiamo a noi o sulla base di quello che pensano le altre persone e questo come avrete compreso non ci permette di vedere le cose per quello che sono e di conseguenza non agiamo nella giusta direzione e quando noi percepiamo il giudizio altrui questo ci può creare lotta quindi possiamo lottare contro giudizio degli altri magari ostinarci a dimostrargli che hanno torto o a dimostrarci che abbiamo torto e la lotta non crea mai una buona non crea mai le basi per una buona evoluzione ma crea sempre comunque un conflitto oppure quando crediamo che sia vero ed assoluto a volte possiamo rassegnarci e l'irreversibilità come avete compreso non ci permette neanche questa di evolvere non ci permette di creare i pensieri adatti di conseguenza le emozioni le azioni per ottenere quello che desideriamo e l'ultimo l'ultimo aspetto la separazione che è quella che è il punto che mi ha fatto fare questa profonda riflessione noi siamo abituati sul piano sul piano materiale nel piano nel quale viviamo a separare tutto noi siamo separati da noi siamo separati dagli altri pensiamo che pensieri emozioni azioni siano separate pensiamo che quello che esterno separato dall'interno invece che pensare che quello che esterno è una riflessione è un riflesso uno specchio di quello che abbiamo internamente quindi nella separazione normale che ci sia alto basso giusto sbagliato bello brutto e tutto quello che è eternamente contrapposto invece sul piano dell'evoluzione dobbiamo ricordarci che alla fine anche quello che non è utile alla fine è utile perché anche le situazioni che magari non ci piacciono non ci fanno stare bene alla fine ci danno degli spunti di di evoluzione degli spunti per crescere a livello personale professionale e finanziario quindi quando dicevo che separare invece c'è scusate invece di pensare che è giusto e sbagliato pensare che è utile o non utile sul piano dell'unità è l'unico piano che ci permette di evolvere tutto è utile anche quello che non è utile è utile dipende sempre come noi lo percepiamo e di conseguenza agiamo quindi per uscire un po dal per uscire dal discorso del giudizio prima di tutto bisogna avere una buona percezione pensare che comunque è utile alla nostra la nostra crescita e al raggiungimento della felicità della libertà e della pace interiore renderlo relativo quindi cercare di renderlo relativo rendendolo oggettivo cercare di comprendere quali sono gli spunti che ci permettono di agire al meglio per ottenere ciò che desideriamo e ovviamente ricordarci che niente è irreversibile perché la vita è in continua evoluzione dobbiamo accettare quello che che ci capita non farci la domanda perché non chiederci perché le persone ci giudicano loro hanno il loro punto di vista che è dettato come ho detto prima da esperienza da tanti fattori ma anche noi quindi comprendere quanto che cosa dobbiamo fare quale pensiero adottare quale emozione adottare quale azioni adottare per ovviamente per poi realizzare i nostri progetti i nostri obiettivi i nostri desideri e ricordarci soprattutto che non viviamo separati da niente da nessuno viviamo in segreto e vivere in connessione con noi stessi a volte ci può piacere quello che pensiamo quello che facciamo a volte può non piacerci ma questo da dare nel relativo e capire che con una buona connessione con noi stessi possiamo veramente ottenere quelle che si chiamano dei miracoli quindi riuscire a cambiare le situazioni quindi tutto e uno mi raccomando cercate di percepire al meglio le situazioni non farvi limitare dal giudizio che crea conflitto e accettare quello che arriva e soprattutto accettarvi e cambiare cercare di adottare il pensiero l'emozione e le azioni più utili per farvi raggiungere la felicità la pace la libertà interiore che vi permetteranno poi di realizzare la felicità la pace la libertà esteriore che è quello che un po tutti cerchiamo detto questo vi saluto anzi prima di salutarvi vi do un piccolo esercizio da fare segnate su un foglio quali sono i giudizi che vi date più più spesso e giudizi che vi danno le altre persone cercate di renderli relativi e cercate di comprendere quali pensieri adottare per poi ottenere quello che desiderate vi saluto spero che questa video questa breve video riflessione vi sia utile per continuare il vostro percorso di risveglio spirituale di crescita personale e professionale finanziare ciao e ci vediamo alla prossima video riflessione la riflessione numero 6 e a prestissimo ciao a tutti